segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te parla di nuovo sul terreno politico intanto per chiederle strettamente non perché questo non lo fosse ovviamente anzi se lei si candiderà all'europea anche lei diciamo proposto prima di italiani ma prima o dopo è irrilevante ma lo ripeto oggi con tagliani il fatto che secondo me non dobbiamo candidarci nessuno si deve candidare dei leader perché in europa bisogna andarci io vengo peraltro all'europa sono uscito al parlamento europeo per candidarmi al senato quindi a mia risposta io non vorrei candidarmi e vorrei che tutti i leader facessero un accordo per non candidarsi c'è un problema se si candidano tutti sì c'è un problema perché è chiaro allora io posso dirle una cosa proverò a non farlo anche se si candidano tutti ma non è detto che non non sia su questo molto pressato però intanto non si candida salvini perché ha detto ho visto che non si chiede salvini mi sembrava una buona cosa adesso se secondo me se su questo noi prendessimo tutti insieme un impegno sarebbe anche un'idea di prendere l'europa sul serio no perché tanto io se mi candidassi non ci potrei andare la meloni meno di me la shlein neppure quindi sono un po una presa in giro massimo franco secondo te come come va a finire